Il semaforo giallo della Commissione europea sui 55 milioni di euro da destinare per il progetto del restyling dello Stadio Franchi di Firenze pesano sul futuro di un quartiere, il Campo di Marte, che a partire da quell'investimento ha in programma di cambiare radicalmente volto. E proprio sulle opere accessorie rispetto al rifacimento del Franchi sembrano concentrarsi le osservazioni di Bruxelles, per cui il governo italiano dovrà fornire entro un mese nuova documentazione. Ora, al di là del panico generato dalla comunicazione di Palazzo Chigi, va detto che la richiesta di un supplemento a fronte di questo tipo di finanziamenti non è inusuale. Così almeno riporta il Financial Times in questi giorni, citando una fonte proprio della Commissione europea. Il mese aggiuntivo, riporta la fonte, servirà a garantire che tutte le prove portate dall'Italia siano tenute in considerazione. Resta tuttavia un alone di incertezza che ruota soprattutto intorno a un passaggio, per così dire più teorico, di indirizzo, ma comunque sostanziale. Nel decreto del 6 dicembre 2021, poi ripreso nel testo definitivo di aprile 2022, l'articolo 2 cita testualmente. I progetti devono riguardare investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate per la rigenerazione e la rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell'accessibilità delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. Il dubbio è che il campo di Marte, quartiere signorile benestante del capoluogo, difficilmente possa apparire come area urbana degradata o territorio vulnerabile. Ma quanto è vincolante questa osservazione? Per rispondere va capito il contesto in cui quelle risorse vengono elargite. I 55 milioni di richiesti per il progetto del restyling del Franchi rientrano infatti nei finanziamenti per i cosiddetti PUI, i piani urbani integrati, ovvero progetti di area vasta a cui potevano accedere le 14 città metropolitane italiane. Firenze lo ha fatto aggiungendo la domanda per il Franchi ai 97 milioni di euro del fondo PNC, in pratica il PNRR della cultura, già approvati. Insieme a quel progetto ce ne sono altri sei che riguardano altri comuni della provincia. A onor del vero, stando ai paletti fissati dall'Europa, come ad esempio l'Indice di Vulnerabilità Sociale, che misura appunto la fragilità di un tessuto urbano o l'efficientamento energetico, tutti sono rispettati dal progetto, ma resta il sostrato del fine, l'obiettivo di fondo per cui quei finanziamenti sono stanziati. che probabilmente non hanno convinto fino in fondo i tecnici di Bruxelles, almeno finora.